Maipitalia con i suoi marchi Elicent e Dinair è una realtà produttiva nazionale con 50 anni di storia nel settore della ventilazione. Negli ultimi anni si è specializzato nel settore della ventilazione meccanica controllata sviluppando una serie di prodotti particolarmente innovativi e adatti per il ricambio d'aria e recupero del calore per singola stanza. La ventilazione meccanica controllata e decentralizzata di Maipitalia sono quindi particolarmente adatti per risolvere i problemi di ufa, umidità e condensa. Infatti solo attraverso un ricambio continuativo dell'aria all'interno degli ambienti che possiamo prevenire questo tipo di problematiche o risolvere eventuali situazioni di questo tipo che ci sono create. E l'ultimo nato è la serie REC2O EVO. Ci facciamo spiegare le caratteristiche peculiari dall'ingegnere crescidibile costante nel sviluppo potente mai in Italia. REC2O EVO è un'unità di ventilazione con recupero di calore, monostanza, il che vuol dire che questo prodotto può essere tranquillamente installato in qualsiasi tipo di ambiente. Tra le caratteristiche principali che ha è quella che la tecnologia del recupero di calore consente nel funzionamento push-pull con accumulatore ceramico installato all'interno del tubo che va all'interno della nostra muratura. Mike Italia è orgogliosa di presentare questo tipo di prodotto che rappresenta una vera e propria perla nel mercato della ventilazione di tipo push-pull dato che poi il prodotto REC2O EVO si riesce ad ottenere una performance molto molto importante in termini di isolamento acustico proveniente dall'esterno raggiungendo il valore di DNW di 45 decibeli. L'elevato valore di isolamento acustico viene ottenuto grazie a delle tecnologie appropriate che consentono di ridurre il più possibile la componente direttiva di rumore dall'esterno che può trasmettersi verso l'interno della stanza. Vedete come ad esempio la griglia a FONA appositamente studiata per permettere plusse di aria di distribuirsi verso la parte esterna ma al tempo stesso permette di ridurre quella che è la componente direttiva del rumore proveniente dall'esterno. Anche il frontale interno alla macchina rappresenta un elemento di attivazione. Il grado di filtrazione elevato della macchina consente di ridurre il più possibile gli inquinanti e quindi l'aria penetra all'interno delle nostre abitazioni nella maniera più buona possibile. Il prodotto REC2O è dotato anche di questa serrandina che si apre quando attivo il telecomando non si chiude quando lo spengo. Spengo per evitare che ci possono essere anche delle perdite di calore quando la macchina non risulta attiva. ... Grazie a tutti.